Sabato 10 settembre si è svolta in Piazza della Libertà a Tolentino la cerimonia del premio Ponte del Diavolo, promossa dall'Associazione I Ponti del Diavolo, in collaborazione con il Comune di Tolentino. Franco Moschini è stato eletto cittadino dell'anno 2016 per aver contribuito allo sviluppo della città con Poltrona Frau e con il recupero dell'ex cinema Politeama Piceno. Il premio è stato consegnato dal sindaco Giuseppe Pezzanesi e dalla presidente dell'Associazione Carla Passacantando. Al Cavaliere Moschini, che ha annunciato che l'ex cinema Politeama Piceno verrà inaugurato entro l'anno, è stato donato anche un Ponte del Diavolo in miniatura. Ringrazio Carla e ringrazio l'amministrazione comunale che ha voluto gratificarmi di questa onorificenza che, tra tante di quelle che ho preso, è talmente più sentita perché è più casareccia, più bella, è più sentita profondamente anche da me perché è data e consegnata nel luogo e dai concittadini dove io vivo e dove opero. Sotto l'aspetto direi istituzionale ci sono due motivi su questa onorificenza motivata come presidente di la Frau e più che altro come innovatore e con la Fondazione Moschini dei locali che saranno aperti alla fine dell'anno del vecchio cinema Politeama Piceno, oggi messo a punto in questi giorni con la collaborazione di uno dei più grandi architetti da me conosciuti, Michele De Lucchi, che prenderà senz'altro un posto di bellezza, di un luogo plurimo, per tante attività ai giovani, per tante promozioni nell'ambito della polivalenza di cui porta proprio il nome Politeama Piceno. Una serata stupenda ed un premiato cittadino dell'anno, anche lui stupendo, come persona, come uomo e come imprenditore e non lo scopriamo certo noi perché il Cavalier Franco Moschini ha lasciato un segno straordinariamente profondo per quello che riguarda il fattore impresa nella nostra città, in Italia e nel mondo e oggi possiamo dire con grande serenità e grande senso di riconoscenza che se a Tolentino ci sono industrie di livello assoluto abbiamo a lui, ai suoi avi, quindi alla sua generazione e a lui personalmente. Nel costo della serata sono state consegnate diverse menzioni d'onore, tra i premiati il Maggiore Cosimo Lamusta, comandante della Compagnia di Tolentino, che ha annunciato che alla fine del mese lascerà il comando della Compagnia per la Caserma Provinciale di Pesaro. Premiati anche i pompieri della Caserma di Tolentino e del capo di staccamento Elvio Tedeschi per il loro operato, in particolare per i numerosi interventi che hanno effettuato per i danni dovuti al terremoto. Menzione d'onore anche per l'imprenditore Nello Lucentini, titolare della Tremori, per aver portato il nome della città nel mondo e per i suoi 65 anni di attività. È stato premiato anche Ermanno Pupo per aver contribuito allo sviluppo di Tolentino sostenendo il progetto della Quadrilatero, premio ritirato dalla figlia Alessia. Premio anche per il pasticcere Roberto Cantolacqua Ripani per aver portato il nome della città nel mondo per la sua attività. Per l'occasione il pasticcere ha realizzato un pasticcino mignon dedicato a San Nicola che alla fine è stato offerto al pubblico. Premiata anche la commerciante Sara Pelliccione che ha quasi raggiunto i 50 anni di attività. Tra i premiati anche Carl Xaver Wolfsgruber per aver soccorso la mattina del 24 agosto dopo il terremoto le persone che vivono in via Monte Cavallo. Menzione anche a Luigi Marzi, presidente dell'Arcicaccia Marche, per aver effettuato una raccolta fondi da destinare ai terremotati. Ai premiati sono stati donati una stampa che raffigura il Ponte del Diavolo di Carlo Gentili, il libro sulle attività di moschini e prodotti tremori. Durante la cerimonia sono stati raccolti fondi a favore delle popolazioni terremotate.